Ciao a tutti ragazzi, bentornati o benvenuti nel mio canale, sono Daniele, un e-commerce manager specializzato nel dropshipping sul marketplace e oggi voglio parlare con voi di una cosa che sta prendendo sempre più piede nel mercato del dropshipping ma in generale nella vendita online e sto parlando del dropshipping dei prodotti digitali, quali per esempio ebook, infocrossi, eccetera eccetera oggi voglio parlare con te di 4 criticità di questo tipo di business model e di cosa devi sapere prima di pensare di andare a fare dropshipping di prodotti digitali quindi resta con me e non ti perdere questo video eccoci qua ragazzi, bentornati e benvenuti con un altro video nel mio canale a solito qua portiamo video di dropshipping ma anche di finanza personale so che in questo periodo sono un po' a rilento la media di video settimanale si è abbassata da 4 a 2 più o meno ma sto facendo un calendario editoriale bello pieno così che possiamo ripendere i ritmi quindi mi raccomando, estivetevi, mettete mi piace perché cominceranno ad arrivare molti contenuti interessanti, qualcosa l'avete già vista oggi voglio parlare con voi di una cosa che sta prendendo sempre più piede se siete nel mondo del dropshipping, soprattutto nei gruppi facebook è una cosa che sicuramente già avete sentito, di cui vi siete già informati e sto parlando del dropshipping dei prodotti digitali cioè ad esempio gli ebook, che è la cosa più... va più di pietra oppure gli infocrossi quindi significa prendere un ebook scritto da qualcuno o farsi scrivere un ebook da qualcuno su Fiverr, Upwork o da qualsiasi freelance o magari lo scrivi lo stesso in quel caso non è più dropshipping comunque è venderlo tramite Shopify maggiormente oppure eBay e altre piattaforme ok? ora, questo business model è altamente marginabile ovviamente perché non c'è nessun costo di prodotto fisso perché inoltre il prodotto digitale nella maggior parte dei casi lei ce l'hai fatto quindi tutto il resto poi è il guadagno tenne che hai degli accordi a percentuale delle affiliazioni ok? ma comunque non è questo il punto del video non è questo il discorso che dobbiamo affrontare il discorso che dobbiamo affrontare si tratta tratta di quattro forti criticità di questo business model che devi assolutamente conoscere prima che inizi a vendere qualsiasi cosa digitale su internet non parlo solo di informazione potresti anche vendere per esempio ci sono molte persone che vendono giochi o codici Xbox ok? programmi qualsiasi prodotto digitale allora iniziamo con la prima criticità la prima criticità ragazzi è la costruzione dello stesso perché un prodotto digitale deve essere costruito e saltiamo subito alla parentesi di questa criticità che sarebbe il copiarli perché diciamo il 99,5% delle persone non costruisce questi prodotti digitali non scrive un ebook non scrive un programma non scrive un gioco ma li copia o se li fa fare ok? la maggior parte delle persone si li copia addirittura vedo persone su Facebook nei gruppi reclamare che prendono prodotti da copyright free o comunque prodotti che trovano in giro e li rivendono costendandosi di questa cosa innanzi dovete sapere c'è una cosa che si chiama copyright ok? quindi innanzitutto dovete essere sicuri che è un prodotto copyright free e seconda cosa anche se lo fosse non è credibile cioè qua non stiamo parlando di marginare semplicemente qualcosa stiamo parlando di creare un business model e quando crei un business model è sottinteso che devi creare un brand come crei un brand attorno a una cosa copiata o comunque trovata gratis online e la vendi tramite pubblicità non farai mai nessun tipo di brand e non avrai mai nessun tipo di credibilità quindi questa è la prima criticità e anche se tu pensi di andartene lontano con le cose copiati dicerà beranto nessuno mi denuncerà mai non si tratta solo di denunce i copyright ti possono bloccare Shopify ti possono bloccare il sito ti possono bloccare il processore di pagamento e tutta una serie di azioni ok quindi questa è la prima criticità che devi avere che devi fare la seconda che è strettamente correlata a questa è legata grazie ai processori di pagamento cosa sono i processori di pagamento i processori di pagamento sono quelle aziende che permettono ai clienti di pagare passavi il denaro ad esempio Paypal Stripe Shopify Payments Surcheckout eccetera eccetera ok questi sono tutti i processori di pagamento perché è una criticità prodotti digitali perché i prodotti digitali assieme ad altri tipi di prodotti che da maggior parte delle volte sono i prodotti più marginabili sono considerati ad alto rischio perché sono considerati ad alto rischio perché perché non state vendendo nulla di fisico quindi non avete non avete una proprietà intellettuale che andiamo già a parte dei casi per questo quando andiamo sempre a copyright perché solitamente si tratta di vendere ad atti volumi quindi ad atti volumi sono sempre ad alto rischio per il processore di pagamento e sono ad alta percentuale di chargeback di prodotti digitali cosa significa? significa che i prodotti di chargeback è quando io reclamo un processo di pagamento a una carta di credito a paypal o qualsiasi cosa che il prodotto non è conforme che il prodotto è di bassa qualità o che non è mai arrivato perché i prodotti digitali sono più alto rischio di chargeback perché non c'è nessuna prova non c'è nessuna spedizione i clienti non devono spedire nessun articolo indietro quindi se ne approfittano perché aprono un chargeback e vengono automaticamente rimbossati questo comincia a diventare un problema se processi i pagamenti ok ovviamente se processi 500 euro a mese non è un problema ma se comincia a fare 100, 200, 300 mila euro a mese avrà grossi problemi ma anche partendo da 20 mila euro a mese avrà molti problemi cosa succede? qua si aprono diversi scenari con i processori di pagamento al momento che nessuno tratta in Italia non mi sono mai chiesto il perché anzi più o meno non sono chiesto le mie ipotesi il fatto è che nessuno in Italia o la maggior parte o comunque la maggior parte delle persone che sono su YouTube ha a che fare con i processori di pagamento perché i processori di pagamento per conoscerli implica che vendi delle immiate cifre che vendi veramente e la maggior parte delle persone che sono su YouTube in Italia sono fuffa questa è la mia teoria ok poi potete anche smentirmi perché non esiste nessun processore di pagamento che non vi faccia problemi appena arrivate a vendere delle immiate cifre qualsiasi tipo di prodotto vendiate qualsiasi tipo di business che voi abbiate quando cominciate a vendere alcune cifre solitamente si parla di 3.000 euro in su al mese avete problemi con il processore di pagamento cosa significa avere problemi con il processore di pagamento che vuole conoscervi che vi applica delle riserve di denaro ne ho parlato in altri video di Paypal ve li lascio in descrizione o andatevi a vedere nel canale tra l'altro iscrivetevi e se nessuno vi parla di queste cose è evidente allora che o non vogliono condividere informazioni ma non c'è motivo o non le sanno ok quindi questo è il processore di pagamento è la prima cosa a cui dovete pensare quando iniziate un business online perché se non avete in modo di processare i pagamenti non avete in modo di ricevere dei soldi non avete nessun business o se vi bloccano i processori di pagamento o vi sospendono non potete più prendere i pagamenti dei vostri clienti o ancora se il processore di pagamento vi mette una riserva e dovete avere budget per fare le ads per pubblicizzare o comprare i prodotti avete la riserva e dovete assicurare di avere abbastanza cash flow libero abbastanza budget libero nessuno ve lo spiega perché se ne volete sapere di più mi potete sempre contattare trovate i contatti in descrizione via email e via instagram quindi i processori di pagamento sono una cosa assolutamente da non sottovalutare qualsiasi tipo di business online tu faccia ed è sempre importante se tu non sei legato a termini ma che place come amazon ebay eccetera avere più processori di pagamento significa se tu entri tramite sito proprietario utilizzando la piattaforma shopify di utilizzare più processori di pagamento non legati a uno solo come paypal o come stripe utilizzane più di uno ok questa è la prima cosa perché se uno ti blocca hai sempre gli altri la terza criticità ragazzi di cui andiamo a parlare è ovviamente i tracking numbers non potete fornire i tracking numbers cosa fate? cosa comporta questo? comporta che ovviamente non potendo fornire tracking numbers se un cliente apre una controversia la perdete in automatico perché non c'è nessuna prova di spedizione o comunque la cosa diventa più complessa poi cosa altro implica? implica il processo di pagamento specialmente paypal sono programmatico gli algoritmi di guardare se i tracking numbers sono inseriti e di tracciare lo stato e l'avanzamento dei tracking numbers se voi processate tutti gli ordini senza tracking numbers vi andranno a bloccare vi andranno a sospendere vi andranno a mettere in revisione automaticamente e questo è un altro problema tracking numbers non è una cosa da sottovalutare per questo è molto difficile vendere prodotti digitali online per questo è molto difficile non sto dicendo che non si può fare sto dicendo che è difficile comporta alcune criticità sono queste ok non confondiamo non si può fare con il porta criticità sono due cose diverse quindi questa è una cosa ragazzi che dobbiamo tenere in considerazione l'ultima criticità che mi ero segnato appena mi sono appena accorto ne abbiamo parlato sono i chargeback che mi ero segnato ma ne abbiamo già parlato quindi l'apertura dei chargeback è una criticità un problema da tenere in considerazione ora come si dovrebbe fare drop shipping di prodotti o comunque vendere dei prodotti digitali in maniera corretta innanzitutto non usare paypal cioè ragazzi davvero non usate proprio i prodotti digitali non andrete molto lontani utilizzate altri processi di paramento ci sono ora andiamo a capire un attimo i processi di paramento non sono tutti uguali sono tutti dipendenti tutti hanno le proprie regole ok più o meno simili però ci sono processi di paramento solitamente extra Europa che sono più inclini ad accettare determinati business ad alto rischio quindi andate a informarvi su quali sono questi processori che tollerano business ad alto rischio come i prodotti digitali o come le cripto monete ad esempio e utilizzate quelli se non ne conoscete o non ne trovate contattatemi potrei aiutarvi questa è una cosa da tenere in considerazione un'altra scelta che potreste fare è quella di andare in una banca e chiedere un account un venditore un merchant account alla banca cioè processare i pagamenti direttamente tramite la vostra banca che a differenza dei processi di pagamento sono molto più flessibili ovviamente dovete avere volumi molto più alti rispetto a un cioè se volete la vostra banca vi dia questi servizi dovete avere un business model di volumi abbastanza alti questo è quando riguarda processi di pagamento è quando riguarda il prodotto non utilizzate prodotti sotto copyright non copiate i prodotti non copiate i prodotti e modificateli parzialmente perché magari andate lontano per un po' ma se trovate quello che vi vuole rovinare vi rovina per esempio io vi rovinerei se usate i miei prodotti impegnatevi se non dovete fare business impegnatevi a fare business seriamente costruite un ecosistema costruite un business model e concentratevi sul vostro lavoro non copiare non scopiazzate quello non è fare business ve lo dirò sempre in ogni video ok concentratevi sui punti chiave detto questo ragazzi ricordate di iscrivervi al canale mettere like al video così mi aiutate a crescere grazie a tutti di essere visti stiamo diventando davvero molti e ti aspetto al prossimo video ciao alla prossima